ok eccoci qui a casa di nuovo che ero al lavoro tornai ora e voglio dire seguitemi quando vedete mi sono fatto la doccia andate anche voi e parlate di meno io faccio video ai fan che io sono il loro idolo mettete mi piace e mi volete seguire quando vedete iscrivetevi al canale a trovate campanella per tutti ragazzi qua sotto il sabato e la domenica c'è il link qua metto la mia posta il link di amazon andate che metto tutti i giorni e metto anche il link quelle che mi servono e porti contenuti per voi su youtube andate tutti e mandatemi i pacchi a casa o faccio un video così o le storie e sono contento e voglio bene tutti voi e niente sono qua posso guardare dove voglio a barba non l'ho fatta che ho mangiato ora venia e non la posso fare che dopo e mi faccia la barba dopo un italiano e mi esce sangue non si può fare prima si deve fare la barba e dopo si mangia controllate e fate prima la barba e dopo mangiate quando finite di fare la barba e quando mi faccio la barba io dico a voi faccio le storie e mostro come si fa la barba a barba e si mette a scuma e alla mente fai a barba e voglio dire una cosa che io voglio fare una cosa con voi 24 ore 24 e voi mi mandatemi saldi normale o vocali o mi chiamate facciamo io vi dico le cose voi imparate che io sono andato a scuola tante volte anni fa quando ero piccolo quando crescevo andavo qua molto salmio anni a scuola media quando avevo un guantale blu e bianco dopo andavo a scuola media melotto porto salvo dopo a scuola ragioneria terza sono andata a melotto porto salvo in queste scuole sono andato io e poi e dopo andavo in palestra con i miei compagni non in palestra in un campo a giocare a un canestro dalla porta la calcio c'era la fisica voglio dire c'era il maestro di fisica e c'era anche voglio di musica eccetera eccetera era bello e niente saluto paolo e coloria aspetta paolo e meri e gemene con la tempo con il gelo c'è il nord al palix e assunta ciao ragà mi voglio bene questo video lo sto facendo ora che devo fare puliziere qua non mi fermo io io ho messo queste vestite veloce così faccio il video sono un figo sta caricando il video quando vedete il primo video che ho fatto a ieri e ho detto che è venuto barberi a ieri io tutti i giorni voglio fare i video per voi su youtube che sono famoso sono una leggenda sono uno youtube sono una la star di youtube i di youtube sono in uno comando io sono il maestro guardate che sono un bastuto bello volete vedere io sono qua rata e niente vi voglio bene dai state tranquilli che se deve ridere non siamo tristi non siamo arrabbiati io sono normale gentile parlo con le persone faccio i saluti faccio pubblico le foto faccio le storie eccetera eccetera piano piano si cargono i video vogliono tempo e faccio corti o lunghi o tempo è brutto vuole tempo a caricare video che io le faccio durare un poco lunghi un poco corti a me mi piace fare i video un poco lunghi così mi parlo tante cose il racconto ho fatto quando ero piccolo e mi ricordo o trovo altre cose la sutta e niente sono qua rata io volevo salutare le persone mi vogliono bene io ho i fan io sono il loro idolo io parlo sempre con con paolo e con fabio con una lentina e mouse 23 over antonio con queste persone e dopo con giodi con simone con davido rubino e con tutti anche con cristina bartovello è una mia fan che mi seguiva e ha visto il primo video famoso quello che mi presentavo e raccordate quello che ho detto sempre e quello famoso 2014 non sei a vista anche quello che è venuto qua a casa anni fa 2015 a fare interviste dopo quell'altro di padova a natale 2018 e ora siamo 2021 siamo a dicembre quando è ora il natale di paguri ora no che manca poco è natale dopo faccio una diretta un video vediamo che io sono qua boh e giri il telefono si vede strano questo video vabbè io lo pubblico lo stesso devo mostrare il look voi posso mandare i messaggi alle persone su telegram o in privato o me le mandano loro e parliamo su disco su telegram o vogliono il mio numero di cellulare a solo alle persone giuste gli do il mio numero di cellulare c'è il vento c'è usule non so è brutto fa freddo in montagna da voi raga fa freddo quanto gradi ci sono qua a ieri oppo se c'erano otto gradi che fa freddo in montagna e da voi raga di termini privato andiamo nella mia vecchia stanza io dormo sopra scendomi guardate le zone mangio dopo quando è ora faccio i saluti danno sopra parlo mi passo tempo dopo vado a letto non è che dormo qua silenzio fate i bravi dai non fate i cattivi non fate i scemi state tranquilli mamma mia queste cazzo non capiscono niente dai ciao raga andiamo ok eccoci qui apriamo il cellulare lo sto aprendo e niente andiamo sto guardando ora vediamo su internet su google novità novità e hanno fatto qualcosa novità noi notizie voglio dire notizie novità su internet su google e cellulare sto aprendo youtube e cellulare che sto aprendo ora in questa ora tardi andiamo aspettate metto pausa non voglio camminare da su le vado in giro e dopo si vede vuoto ca o io che parlo con cellulare ho visto tanti video io metto pausa dopo camminare solo io registro io sono il numero uno e comando io sono il maestro mamma mia con queste capelli sto bene andiamo aspettate raga ok eccoci qua mettiamo bene questo telefono poi basta nei selfie leggiamo novità due giorni fa hanno pubblicato che parlano di cta 6 sto guardando una cosa e leggo a voi raga aspettate un minuto leggiamo e non c'è niente novità aspettate raga che fate state studiando o state lavorando ditemi o siete a casa e sentete la musica giocate io sono qua che sto facendo il video per voi io sono famoso e faccio i video tutti i giorni attivate la sveglia e ci vediamo alla prossima io continuo a fare questo video che ancora lo devo fare ancora un pochino lungo e vediamo vediamo ah vabbè c'è tia online vabbè e lì tolgono la fascia della juve all'inter che a fare ok avete sentito la nuova canzone di Elettra Laborghini io l'ho sentita su youtube aspettate arrivo e cerco altre cose aspettate metto pausa ok vediamo che dicono un giorno fa a ieri parlano i tifosi di Michael Schumacher qua hanno pubblicato un giorno fa a ieri Michele Schumacher adesso è ufficiale una notizia bellissima per tutti i tifosi ah della ferrari 1 la ferrari gli occhi si chiudono e si aprono vediamo andiamo avanti amocas va bene raga sono qua sto cercando qualcosa e leggo per voi va bene vediamo la casa di papel vabbè io mi sono visto metà ancora me la devo guardare e vediamo vabbè qua parlano di Fortnite va bene vabbè qua buttano la spattatura da strada le persone che sono o cattive o scemi belli miei a Reggio Calabria deve stare puliti da strada a spattatura si butta entra un coso c'è un coso grande e lo butti là non a terra forse non cape e beh i persone la buttano fuori qua c'è scritto 8 ore fa ora raccolta rifiuti a Reggio Calabria calendario c'è scritto calendario luoghi di ritiro isola ecologico breve guida pratica ora ora ho a Reggio in tutti i parti a Reggio Calabria ci sono la spattatura a terra che le persone quelle la che passano con camion da spattatura non vengono a lasciare la spattatura passano quando vogliono ma anche qua qua vengono vengono a Siracca da noi o prima o dopo alle 5 quando calo o alle 4 viene prima a spattatura a notte in mezzanotte è così raga leggiamo altre novità ora faccio solo così o faccio vado in giro ora ah ecco agente Torino accorto totale con la Juventus ok 5 ore fa vediamo qua vediamo qua vabbè qua parlo no raga andate su la cinema che moto cp il 28 o il 29 tutte al cinema c'è Cis c'è Marco Simoncelle o se hanno creato un film di Marco Simoncelle quello che ripose in pace era un amico di Valentino Rossi vediamo altro basta così ah sono pulpa i 3 sta attanando qua parlo di Google va bene ah Cattuso quello il giocatore del Milan va bene c'è va bene io mi dissocio youtube mi dissocio alle persone John Zina io me non zine cucù sattamamau basta così andiamo voglio leggere solo una cosa così dopo andiamo in giro qua la Juve esce escluse lezione perdebola il comunicato ufficiale un giorno fa ieri so parlare sono italiano calabrese il dialetto non avete capito la mia lingua andate via sciò o andate a mare mi dissocio quello che ho detto ah qua parlano di fast and furia raga raga sono arrivati da fast and furia sono arrivati in numero 9 un altro lo fanno ditemi in privato a me mi piace fast and furia quando c'era quello quello attore quello biondo non lo dico in nome dopo spaglio dopo le persone dicono cazzate lo dico così vabbè qua parlano della play la playstation 5 su internet ah qua c'è vabbè basta andiamo seguitemi quando vedete iscrivetevi al canale trovate campanella bello twitter ragazzi un like qua sotto c'è il link di amazon e il link di quelle cose che mi mandate scegliete e qua il sabato e la domenica carico i gameplay i giochi andiamo fate i bravi ok io porto belle contenute non porto cazzate ok non potete parlare male di me o avete guai dai un sorriso a tutti andiamo ok raga ho letto novità su internet su google sul cellulare ora sono a posto facciamo questo video finiamo e ci vediamo alla prossima tutti i giorni video per voi su youtube e voi mi mandate i cosi io le apro un video così o un video delle storie c'è anche quell'altro link le trovate qua sotto e dopo qua il sabato e la domenica carico i giochi dei gameplay e mi seguite iscrivetevi al canale attivate la campanella bello a tutti i ragazzi un like così e niente raga io sono il vostro Enrico per scuola pratico con tutti i ragazzi ho 29 anni sono di molti anni progetti di reggio calabria e sono il numero uno raga io voglio dire tutto il mondo o in giro o per sopra o a reggio calabria o qua da noi non capono a sfatatura delle cose la e la mettono a terra e i camion non passano tutti i giorni e prendono a sfatatura è un bordello raga ho visto su internet su google o in altre parti parlano le persone che non passano a sfatatura o anche a televisione lo dici io vi voglio bene ci vediamo alla prossima siamo pomeriggio e vado a fare i lavori grazie a tutti e baci e ciao raga vi voglio bene un sorriso a tutti e se enrite ciao raga alla prossima ciao ciao